Un nuovo boato nel corso della notte, una bomba carta che manda in frantumi le vetrine di un negozio di abbigliamento in via Canale, danneggiando anche la vetrina di un altro esercizio commerciale e facendo cadere giù anche i calcinacci da un balcone. È stata forte l'esplosione avuta alle 4 di questa mattina in pieno centro a Nocera Inferiore, in via Canale, sotto i portici, di fronte all'ingresso del parcheggio pubblico, ai danni della boutique Via Marconi, dove dinanzi alla Saracinesca è stata fatta esplodere una bomba carta. Un nuovo tentativo criminoso e inquietante che porta a ritenere che concorra alla malavita con attentati e intimidazioni ai danni di attività imprenditoriali. Ad indagare sono i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi, indagini che vanno ad aggiungersi ai fatti avvenuti ai danni del bar caffetteria Bistrò, dove la scorsa settimana sono stati esplosi dei colpi di pistola contro la vetrina dell'attività poco distante dall'ingresso dell'ospedale Umberto I ed ancora prima l'esplosione di un pesantissimo ordigno, sempre a Nocera Inferiore, in via Solimena dinanzi ad un portone. Una situazione di tensione molto alta in città che preoccupa i cittadini e non poco. Si teme un riacutizzarsi anche del racket in una città con tanti esercizi commerciali. L'ipotesi genera grande preoccupazione, un'escalation di episodi criminali che sta creando timore, che potrebbero essere legati al racket. Le indagini affidate ai carabinieri si muovono infatti, oltre ad identificare gli autori delle esplosioni, puntano a capire se diversi fatti siano tra loro correlati. L'ennesimo grave episodio, verificatosi stanotte con un'esplosione nei pressi di un negozio in pieno centro, verosimilmente una bomba, rende ormai clamoroso ed urgentissimo il bisogno di sicurezza in una città che diventa, dopo gli accadimenti di queste ultime settimane, la priorità assoluta per la nostra comunità. A dirlo il sindaco di Nocera Inferiore, Malle Otoquato, che ha rivolto un accorato appello alle forze dell'ordine e alle autorità investigative di svolgere con accuratezza, efficacia e soprattutto rapidità tutto quanto c'è da fare per fermare questa grave escalation criminale che rischia di riportarci al peggiore passato di questa città. L'amministrazione comunale ha continuato torquato, assicura ogni possibile forma di collaborazione ed invita la cittadinanza a fare altrettanto.